il buon soldato schweik parte prima nelle retrovie sicché ci hanno ammazzato ferdinando disse la fantesca al signor schweik che avendo lasciato da qualche anno il servizio nell'esercito per essere stato dichiarato idiota dalla commissione medica militare ora viveva vendendo degli orribili cani ibridi mostri per i quali compilava delle fittizie genealogie come se questa occupazione non bastasse era affetto da reumatismi e proprio in quel momento si stava frizionando i ginocchi con lunguento di opo del doc quale ferdinando signora miller domandò schweik senza cessare di massaggiarsi i ginocchi io conosco due ferdinandi il primo è commesso dal droghiere prusci e una volta si beve per sbaglio una bottiglia di lozione per capelli e poi conosco anche ferdinando kokoschka che raccoglie lo sterco di cane per tutti e due non sarebbe un gran male ma no signore l'arciduga ferdinando quello di conopiste tenuto arciducale così grosso e così religioso gesù maria sclamò schweik questa sì che è bella e dov'è che gli è capitata questa faccenda all'arciduca hanno sparato addosso a sarajevo con la rivoltella signor mio mentre se ne andava in automobile con l'arciduchessa guarda un po' in automobile signora miller un tale si permette l'automobile e non va certo a pensare che una girata in automobile vada a finir così male e come se non bastasse ciò va a capitargli a sarajevo che è in bosnia signora miller la colpa non può essere che dei turchi noi abbiamo fatto proprio male a prender loro la bosnia a zegovina chi la fa l'aspetti signora miller così ora il signor arciduca se la riposa nella pace di dio ma ha sofferto molto il signor arciduca è morto sul colpo signor mio si sa bene che una rivoltellata non è un balocco non è mica molto che un signore su da noi al quartiere di nusle si è messo a scherzare con una rivoltella ed ha ammazzato tutta la famiglia più il portiere che era salito a vedere chi era che sparava al terzo piano ci sono delle rivoltelle signora miller che non vi fanno male neppure se si impazza perché sparino di tali sistemi ce n'è un subisso ma si vede che per l'arciduca si sono procurati qualcosa di meglio e si scommetterà il signor miller che l'uomo che ha fatto il colpo sarà vestito bene apposta si sa che a sparare addosso a un arciduca è una faccenda piuttosto difficoltosa e che si tratta di ben altra cosa di quando un bracconiere tira a una guardia campestre e poi ad un signore come quello non ci si può mica presentare vestiti da straccioni bisogna portare il cilindro altrimenti un poliziotto vi porta via pare che fossero imparecchi signor mio questo si capisce da sé signora miller disse il schweyche quando ebbe finito le sue frizioni ai ginocchi anche voi se vi venisse la voglia ad ammazzare un arciduca o un imperatore la prima cosa che fareste sarebbe di andare a chiedere consiglio a qualcuno più sono le persone più è il giudizio chi propone una cosa, chi un'altra e allora l'opera riesce come dice il nostro inno nazionale la cosa più importante è di cogliere il momento giusto quando un simile personaggio vi passa davanti vi rammentate per esempio di quel signor Lucchini che trafisse la nostra defunta Elisabetta a colpi di lima? era andato a fare una passezzata con lei fidatevi della gente signora Miller da allora in poi non c'è più un'imperatrice che si permetta una passeggiata e la faccenda capiterà ancora a molte persone vedrete signora Miller che raggiungeranno anche lo zar e la zarina e può darsi che Dio ci salvi anche il nostro grazioso sovrano visto che hanno cominciato con suo zio il nostro vecchio sovrano ha molti nemici molti più dello stesso Ferdinando è quello che diceva pochi giorni or sono un signore all'osteria che verrà un bel giorno che tutti questi imperatori capitomboleranno l'uno dietro l'altro e non ci potrà far nulla nemmeno il procuratore generale poi non aveva da pagare il conto e allora l'oste ha dovuto farlo arrestare ma lui ha dato uno schiaffo al padrone e due alla gente allora l'hanno portato in gattabuia perché riacquistasse la memoria sicuro signora Miller ne succedono delle belle oggigiorno tutte perdite per l'Austria quando ero militare un soldato di fanteria ammazzò il capitano caricò il fucile e si recò in fureria qui gli dissero che non aveva nulla a che fare ma lui insistì dicendo di dover parlare col capitano allora il capitano uscì fuori e subito gli affibbiò una consegna lui a sua volta impugnò il fucile e lo colpì proprio al cuore la palla uscì fuori dalla schiena del signor capitano e fece ancora dei danni in fureria frantumò una bottiglia di inchiostro e macchiò tutte le carte d'ufficio e quel soldato come finì? chiese dopo una pausa la signora Miller mentre Schweick si rivestiva si impiccò con le bretelle disse Schweick lustrando con forza il suo cappello duro anzi con un paio di bretelle che non erano neppure sue se le fece imprestare dal secondino con la scusa che gli cascavano i pantaloni avrebbe forse dovuto avere pazienza fino al plotone d'esecuzione si sa bene signor Miller che in casi come questi chiunque perderebbe la testa il secondino fu degradato e si buscò sei mesi di prigione ma riuscì a cavarsela fuggì in Svizzera ed ora è predicatore di non so quale chiesa oggigiorno c'è poca gente per bene signora Miller io mi figuro che anche al signor arciduca a Sarajevo è successo di ingannarsi a proposito dell'uomo che gli ha sparato ha visto una persona e si è detto costui è certo un buon uomo che vuole gridarmi e viva e invece quell'uomo l'ha abbattuto gli ha tirato un colpo solo o più d'uno i giornali dicono signor mio che l'arciduca è rimasto bucato come un crivello quel tale gli ha sparato addosso tutte le sue cartucce ah sono cose che si fanno alla svelta signora Miller terribilmente alla svelta io in un caso simile mi comprerei una Browning all'aria di un balocco eppure con quel balocco voi potete ammalare in un paio di minuti una ventina d'arciduchi grassi e magri quantunque sia detto fra noi signore Miller sia più facile cogliere un'arciduca grasso che uno magro come per esempio vi ricordate quando ammalarono il loro re in Portogallo che era altrettanto grosso del nostro arciduca ma purtroppo un re come fa ad essere magro beh io me ne vo all'osteria del calice e se venisse qualcuno a ritirare quel cucciolo per il quale già ho riscosso un acconto ditegli che lo tengo nel mio canile in campagna che gli ho tagliato da poco gli orecchi e che non è in grado di viaggiare perché non gli sono ancora guariti e gli prenderebbero freddo la chiave consegnatela alla Portinaia all'osteria del calice c'era un solo cliente era l'agente morghese Brett Schneider che serviva nella sezione politica l'oste Palivets lavava i bicchieri e Brett Schneider si faceva inutilmente in quattro pur da attaccare con lui una conversazione di qualche importanza Palivets era celebre per il suo turpilocchio in ogni suo discorso una parola su due era cazzo o merda come se non bastasse era un po' letterato e consigliava a tutti di leggere ciò che aveva scritto riguardo al secondo soggetto Victor Hugo citando la risposta finale fatta agli inglesi dalla vecchia guardia napoleonica nella battaglia di Waterloo che bella stagione che abbiamo disse Brett Schneider cercando di riattaccare la conversazione di qualche importanza non me ne importa una merda disse Palicef riordinando i bicchieri nella credenza ce ne hanno combinate delle belle laggiù a Sarajevo ripresa a dire con un filo di speranza Brett Schneider in quale Sarajevo? domandò Palicef in quella bottiglieria di Nusle? ah si pestano ogni giorno si sa bene che razza di quartiera è Nusle ma io intendo parlare di Sarajevo in Bosnia padrone è lì che hanno ammazzato l'arciduca Ferdinando che ne dite? io non mi mischio di tali faccende e chi me ne volesse fare mischiare venga pure a leccarmi il culo rispose cortesemente il signor Palicef accendendo la pipa oggi giorno a immischiarsi negli affari altrui si corre il rischio di rompersi il capo io sono negoziante e se viene qualcuno e mordina una birra io sono ai suoi comandi ma questo quel Sarajevo la politica oppure il nostro defunto arciduca sono tutte cose dalle quali non può saltar fuori altro che la gatta buia Brett Schneider si chietò e si mise a guardare pieno di delusione nel locale completamente deserto un tempo qui c'era appeso il ritratto di sua maestà l'imperatore soggiunse dopo una pausa proprio lì dove ora c'è quello specchio sicuro avete ragione rispose il signor Palicef stava appeso lassù e le mosche ci cacavano sopra sicché ho dovuto riporlo in solaio capite qualcuno si sarebbe potuto permettere qualche osservazione e mi avrebbe procurato delle seccature come se non ne avessi abbastanza eh laggiù a Sarajevo la cosa deve essere stata brutta che ne dite padrone? a questa pericolosa domanda a bruciapelo il signor Palicef rispose con eccezionale cautela di questa stagione in Bosnia-Zegovina fa un caldo terribile quando io mi trovavo laggiù a fare il soldato bisognava applicare dei pezzi di ghiaccio sulla testa del nostro colonnello in che reggimento avete servito padrone? chi si ricorda di queste piccolezze? io non mi sono mai occupato di simili porcherie e non sono mai stato troppo curioso rispose il signor Palicef e soggiunse subito dopo troppa curiosità non può che nuocere l'agente Brett Schneider si chietò definitivamente e il suo cipiglio si rasserenò solamente all'ingresso di Schweick che appena avarcata la soglia ordinò subito una birra nera e soggiunse oggigiorno anche a Vienna sono a lutto gli occhi di Brett Schneider brillarono di speranza e proferì bruscamente al castello arciducale di Konopiste hanno essato dieci bandiere nere dodici dovrebbero essere disse Schweick dopo un gran sorso di birra che intendete dire con dodici? chiese allora Brett Schneider per farci fratonda e perché si conta meglio a dozzine e poi tutto si compra meglio alla dozzina rispose Schweick regnò allora un profondo silenzio che fu interrotto proprio da un sospiro di Schweick ora che l'arciduca si trova alla presenza della giustizia divina che il signore gli conceda la pace eterna egli non ha vissuto abbastanza per diventare imperatore quando facevo il militare una volta un generale cadde da cavallo e crepò tranquillamente volevano aiutarlo a rimettersi in sella ma si accorsero che era rimasto secco e dire che avrebbe potuto fare tanta carriera da diventare generalissimo la cosa avvenne nel corso di una rivista alle truppe queste riviste non portano mai nulla di buono anche a Sarajevo si deve essere stato qualcosa di simile ora mi ricordo che a una di queste riviste mi mancava una ventina di bottoni alla divisa e che per questa mancanza mi schiaffarono in cella per quattordici giorni e per due giorni mi rimasi sepolto come lazzaro attorcigliato come una salsiccia ma la disciplina dell'esercito è una cosa giusta altrimenti nessuno farebbe nulla di nulla il nostro tenente Makovec ci diceva sempre la disciplina razza di canaglie bisogna che ci sia se no voi varrampichereste come scimmie sugli alberi e non c'è che l'esercito che sia capace di fare degli uomini da dei mascalzoni come voi non è forse vero? immaginatevi un parco supponiamo quello della piazza dire Carlo e su ogni albero un soldato senza disciplina è una cosa della quale ho sempre avuto una grande paura laggiù a Sarajevo insinuò Bert Schneider sono i serbi che hanno fatto il colpo e sbagliate di grosso replicò Schweik sono stati i turchi per vendicarsi della Bosnia-Herzegovina e Schweik espose il suo punto di vista sulla politica estera dell'Austria-Ungheria nei Balcani nel 1912 i turchi avevano perduto la loro guerra con la Serbia la Bulgaria e la Grecia essi avrebbero voluto che l'Austria-Ungheria li aiutasse e visto che l'Austria-Ungheria non aveva fatto nulla avevano ammazzato Ferdinando vuoi bene ai turchi tu chiede a Schweik rivolgendosi all'oste Palicev vuoi forse bene a quei cani di pagani no vero cliente vale cliente disse Palicev anche se è turco per noi commercianti la politica non esiste pagati la tua birra sediti a un tavolino e chiacchiere a quanto vuoi questi sono i miei principi che il colpo al nostro Ferdinando l'abbia fatto un servo un turco un cattolico un musulmano un anarchico un giovane cieco per me fa perfettamente lo stesso è giusto padrone osservò Brett Schneider che si sentiva rinascere la speranza di cogliere in fallo almeno uno dei due ma mi permetterete di dire che ciò è una grande perdita per l'Austria in luogo dell'Ost rispose Schweik che sia una grande perdita nessuno lo può negare una perdita enorme un Ferdinando non può essere mica sostituito da un imbecille qualsiasi piuttosto gli avrebbe dovuto essere ancora più grosso che intendete dire chiese vivamente Brett Schneider che intendo dire ribatte Schweik con l'aria più tranquilla del mondo semplicemente questo che se fosse stato più grasso sarebbe già stato colto da un colpo a caccia di comari a conopiste quando raccoglievano legna e funghi nella sua bandita e non sarebbe perito ad una morte così vergognosa quando ci ripenso uno zio di sua maestà l'imperatore che muore ammazzato come un cane questo sì che è uno scandalo i giornali non parlano d'altro qualche anno fa da noi a Budiovice durante una fiera uccisero a stilettante un trafficante di bestiame un certo Luigi Bretislav lui aveva un figliuolo di nome Abuslav e quando costuivenne a vendere i suoi porci nessuno vuole fare acquisti da lui e tutti quanti dicevano costui è il figliuolo di quel tale che fu pugnalato deve essere anche lui un bel farabutto alla fine non gli rimase altro che gettarsi nella moldava dal ponte di Krumlov e dovettero ripescarlo farlo rinvenire pompargli fuori l'acqua che aveva ingoiato finché quel bel tipo tirò l'ultimo fiato tra le braccia del medico che gli stava facendo non so quale iniezione voi fate dei paragoni veramente straordinari disse con tono significativo a Brett Schneider prima parlate dell'arciduca e poi di un trafficante di bestiame ma che ribette Schweik a sua difesa io mi guardi dal fare confronti il padrone sa bene chi sono non è vero che io non ho mai fatto confronti tra una persona ed un'altra soltanto io non vorrei trovarmi nei panni della vedova dell'arciduca che farà ora poverina ecco che i bambini sono orfani e le proprietà di Conopiste senza padrone maritarsi con un altro arciduca e con chi e poi rifarebbe con lui un altro viaggio a Sarajevo e tornerebbe vedova per la seconda volta qualche anno fa viveva a Sliva presso Luboca una guardia campestre che si chiamava col buffissimo soprannome di Barilotto i bracconieri l'ammazzarono e lui lasciò la vedova con due figlie ma la donna dopo un anno si rimaritò con un'altra guardia campestre Peppino Slevloci di Medlovali e lo ammazzarono anche quello allora si risposò per la terza volta e prese anche quella una guardia campestre dicendo tutte le cose buone vanno a tre a tre se mi fa male anche questa non so proprio a che santo votarmi si capisce che le ammazzarono anche quello e le restarono così sei figliuoli dai suoi tre guardiaboschi allora chiese udienza nel gabinetto del principe Luboca per lamentarsi della sua disdetta con quei tre mariti e quelli le raccomandarono il guardia pesca Iaresce degli stagni ragicchi manco a dirlo s'annegò mentre pescava appena in tempo per lasciarle altri due figliuoli allora si sposò con un castrino a Vodnani che una bella notte le fracassò la testa con l'accetta e poi se ne andò a costituirsi alla polizia e quando poi il tribunale distrettuale di Pis che lo fece impiccare portò via il naso al sacerdote con un morso e dichiarò di non pentirsi di nulla e disse anche qualcosa di sconveniente riguardo a sua maestà l'imperatore e voi sapete che cosa disse chiese con voce speranzosa Brett Schneider io non posso dirvelo perché nessuno ha mai avuto il coraggio di ripeterlo ma doveva essere proprio qualcosa di tremendo e di spaventevole perché un consigliere del tribunale che si occupò dell'affare impazzì per averlo sentito e lo tengono ancora sotto chiave perché la cosa non venga alla luce del sole non si trattava soltanto di un comune reato di lesa maestà di quelli che scappano di bocca a uno che è ubriaco e quali sono questi reati di lesa maestà che scappano di bocca a uno che è ubriaco domandò Brad Schneider fatemi il piacere signori cambiate registro esclamò l'oste Palicef sapete bene che con queste storie mi vanno poco a genio quali sono i reati di lesa maestà che si commettono durante l'ubriachezza ripete Schweik d'ogni genere ubriacatevi fate suonare l'inno austriaco e vi accorcerete da voi stesso che cosa vi salterà in mente di dire ve ne verrà tanta in testa a proposito dell'imperatore che basterebbe la metà fosse vera per farne uno scandalo che durasse tutta la vita ma il vecchio imperatore non se lo merita davvero state sentire quando era nella sua piena forza virile perde precocemente il suo figliuolo Rodolfo la moglie Elisabetta gli fu trafitta con una lima e poi a Giovanni Hort toccò di scomparire chissà dove infine il fratello Massimiliano imperatore del Messico glielo fucilarono dietro il muro ad una fortezza ed ora è vecchio ecco che gli ammazzano anche lo zio pover uomo bisognerebbe che avesse i narvi di ferro e poi qualche ragazzaccio ubriaco va proprio a ricordarsi di lui per bestemmiarlo se oggi dovesse venire fuori qualcosa di brutto io voglio andare volontario e farmi fare in quattro pezzi pur di servire il suo maestà all'imperatore Schweik beve il suo bel sorso e continuò voi credete che sua maestà l'imperatore lasci correre allora lo conoscete poco bisogna fare una guerra contro i turchi ma avete ammazzato lo zio e io vi rendo pan per focaccia la guerra è sicura la Serbia e la Russia saranno nostre alleate sarà un gran bel vedere nel suo estro profetico Schweik s'abbelliva e si trasfigurava la sua faccia sempliciona sorrideva come una luna piena e si infiammava d'entusiasmo tutto gli sembrava così chiaro può darsi proseguì nella sua previsione dell'avvenire dell'Austria che in caso di guerra con la Turchia i tedeschi ci assaltino alle spalle perché i turchi e i tedeschi vanno d'accordo fra loro porci simili è difficile ritrovarne al mondo ma in compenso noi ci possiamo collegare con la Francia che fin dal 70 ce ne deve avere del rancore con i tedeschi e tutto andrà bene avremo la guerra ve l'assicuro Brett Schneider salzò in piedi e proferì solennemente ora avete parlato abbastanza venite da me nel corridoio che ho qualcosa da dirvi Schweik seguì la gente nel corridoio dove l'attendeva una piccola sorpresa il suo compagno di tavolo gli mostrò un'aquiletta con trassegno degli agenti della polizia politica austro-ungarica dichiarandoli in arresto e annunciandogli che l'avrebbe condotto il suo fatto alla questura centrale Schweik tentò di spiegargli che si sbagliava e che lui era completamente innocente perché non aveva detto una sola parola capace di offendere chi che sia Brett Schneider gli replicò che aveva effettivamente commesso parecchi reati fra i quali predominava il delitto di alto tradimento allora rientrarono nella sala dell'osteria e Schweik disse al signor Palicef io ho in conto cinque birre e un panino con salsiccia dammi ancora un grappino che me ne devo andare perché sono arrestato Brett Schneider mostrò l'aquiletta anche al signor Palicef lo guardò ogni istante e gli chiese siete ammogliato sì signore è in grado vostra moglie di dirigere invece vostra l'azienda in caso di assenza sì signore tutto è in ordine padrone disse gaiamente Brett Schneider fate venire qui la vostra signora consegnatele tutto e noi stasera torneremo per voi non te la prendere lo controllò Schweik io lo adentro soltanto per alto tradimento ma perché proprio io si lamentava il signor Palicef e dire che sono sempre stato prudente perché avete detto che le mosche cacano sopra la sua maestà l'imperatore vedrete che sapranno ben cavarvelo di testa sua maestà l'imperatore così Schweik lasciò l'osteria del calice in compagnia dell'agente e appena furono fuori gli chiese con la sua faccia sempre irradiata da un sorriso bonaccione devo scendere dal marciapiede e perché credevo di non aver più il diritto essendo nel resto di camminare sul marciapiede quando varcarono la soglia della questura Schweik disse come è passato alla svelta il tempo non è vero e dite voi venite spesso al calice e mentre introducevano Schweik nell'ufficio del funzionario di servizio al calice il signor Palicef trasmetteva le consegne del negozio alla moglie che piangeva e lo consolava a modo suo non piangere non strillare che vuoi che mi facciano per quello smerdato ritratto di sua maestà l'imperatore fu con questo cordiale e semplice modo di fare che il buon soldato Schweik intervenne nella guerra mondiale gli storici saranno sorpresi dalla sua precoce chiaroveggenza se poi la situazione si sviluppò altrimenti da ciò che gli aveva previsto al calice dobbiamo considerare che Schweik non aveva mai frequentato un corso propedeutico di scienza diplomatica di scienza